non ho potuto scegliere chi mi ha preceduto ha già tolto un dente per correggere la malocclusione di questa ragazza no non è l'incisivo laterale che qui non si vede perché sul palato coperto dagli incisivi che sono tutti migrati da un lato non manca nulla neanche da questa parte dove i denti non sono ingranati e sbattono uno contro l'altro è qui che è stato estratto un premolare dal lato in cui i molari sono in seconda classe cioè dove i molari superiori sono più avanti rispetto agli inferiori l'estrazione è legittima perché le scelte alla fine sono solo due o porti indietro tutti i denti compresi i molari oppure lasci i molari dove sono togli un dente qui in mezzo e ottieni lo spazio per arretrare il solo gruppo anteriore esiste una terza scelta non l'ho mai praticata e consiste nell'estrarre anche il secondo premolare inferiore per poter avanzare i molari in modo da avere anche i molari in prima classe perché non mi piace perché è cruciale importante fondamentale avere i canini superiori inferiore in prima classe altrimenti non si può avere un contatto corretto tra i denti anteriori ma a livello dei molari non si ottengono enormi benefici secondo me guardando l'arcata superiore vediamo che ci serve spazio anche per questo incisivo laterale parcheggiato in doppia fila le arcate non sono proprio centrate proprio perché gli incisivi superiori sono slittati da una parte e all'arcata inferiore cosa c'è solo un piccolo affollamento cosa faccio devo gestire lo spazio di estrazione e non è così banale la letteratura scientifica mette anche in guardia sulla possibilità che a distanza di tempo si riaprano gli spazi in cui sono stati tolti i denti soprattutto nei casi in cui non partiamo da un affollamento grave la meccanica ortodontica è molto semplice allineo livello e poi faccio scorrere i denti sull'arco gli incisivi centrali andranno verso la sinistra della paziente in modo da dare spazio all'incisivo laterale e da far ingranare il canino in prima classe dalla radiografia del cranio si vede bene il muro che formano gli incisi superiori il contatto eccessivo tra i denti anteriori è già causa di una sintomatologia fastidiosa mal di testa in questa zona dolore alla cervicale qua alto tutte cose che sono molto molto spesso legate al morso coperto visto che la maggior parte dei lavori sono da fare all'arcata superiore inizio con l'apparecchio fisso solo sopra per un po di mesi preferisco finire insieme con l'apparecchio sopra e sotto piuttosto che iniziare insieme e poi finire molto prima con un'arcata e tenere le piastrine ferme lì ad accumulare placca e ad aumentare il rischio di carie prima cosa da correggere è la rotazione del canino è appena possibile cioè quando i denti sono allineati e livellati e ho montato l'arco rettangolare in acciaio che è in grado di controllare bene la posizione lo spostamento dei denti a quel punto attivo le meccaniche di scorrimento come le palline sulla baco e infatti qua già si vede che il canino è in grado di scorrere piano piano si crea lo spazio per l'incisivo laterale quando si sposta un dente dal palato verso l'esterno la cosa più difficile fare riacquistare la sua inclinazione perché tende a uscire proprio sdraiato in avanti e non è facile perché in quella zona la corticale dell'osso la buccia dell'osso verso l'esterno è più sottile perché mancando il dente non si è sviluppata e più di tanto non conviene forzare la radice contro l'osso ci stiamo avviando verso la fine del trattamento c'è un piccolo spazio in alto a sinistra che è fatico a chiudere perché premolare e molare hanno un ingranaggio molto stabile portarli in avanti ancora avrebbe poco senso il gruppo frontale superiore ha un buon contatto e allora potrei chiudere lo spazio arretrando ancora un po gli incisivi perderei però tanto la coincidenza tra sopra e sotto della linea mediana quindi questo piccolo spazio dietro al canino sta lì così non si vede nel sorriso e non crea enormi problemi parodontali questo piccolo spazio residuo è uno dei motivi per cui preferisco un trattamento magari più complesso e più lungo con le mini viti che mi permettono di portare indietro anche i molari ed evitare le estrazioni asimmetriche il più possibile perché se guardiamo il risultato finale la chiusura dei denti è asimmetrica può funzionare certamente perché l'obiettivo della prima classe canina è raggiunto e durante i movimenti di protrusione e di lateralità gli incisivi e i canini possono lavorare bene come piani inclinati che aprono uno spazio tra le arcate proteggendo molari e premolari dagli sfregamenti questo caso ci insegna che si possono risolvere le malocclusioni in modi diversi ed è possibile ottenere una buona correzione dei denti e anche un buon ingranaggio anche se rimane una asimmetria se hai scoperto che l'ortodonzia è interessante e fighissima in realtà non puoi non venirmi a trovare nella mia casa www.ortodonzia-torino.it dove trovi un sacco di articoli e di video che sfameranno la tua curiosità noi ci vediamo domenica prossima alle 18 prima di cena puntuali ciao